Ragazzi siamo tornati a Milano. No vabbè Marco, il business world record. No vabbè, bellissima. Ragazzi questo è un trofeo, questo è veramente un trofeo. Bellissima. Un'altra. Che brava campagnola. Ragazzi, qua ce n'è di roba ma con la tempesta che c'è stata, hanno spaccato un bel po' di piante, adesso c'è da mettere un po' posto, però guardate quanti pomodori ragazzi, è incredibile. Come devo mettermi a raccogliere? No no ma è incredibile quanti ce ne sono. Cioè, è pieno in tutta la pianta, cioè. Nella vita ho trovato una bruttissima cosa. Questo animaletto qua che mi sta mangiando tutta la vite, cosa devo fare? Aiutatemi. Raccolto della giornata, questa è tutta insalata, radicchio, pomodori, pomodorini, con un po' di frago, altri pomodori, tutto il basilico per fare il pesto e dell'altra insalata, e dell'altro basilico, e degli altri pomodori. Marco, fatti vedere quanto sei sexy. Ragazzi non so mai quale dei due scegliere. Mi piacciono veramente tutti e due, questo è il watch 3, permette di gestire le telefonate anche senza smartphone. L'altra scelta è il watch gt2 pro che ormai conoscete benissimo perché lo uso sempre durante i miei allenamenti. Ragazzi sono in super promozione sul sito di huawei insieme ad altri tantissimi prodotti. Lascio qui il codice sconto e il link in swipe per poter scoprire tutti i dettagli. Non voglio altro che un sorriso grande, non voglio altro che un sorriso grande, anche se piangerai, lo sai che dopo la notte c'è un sorriso grande.